Ci sono voluti 23 anni, ma finalmente i carabinieri hanno arrestato tre persone perché accusate di essere coinvolte nell'assassinio di Giuseppe Caltagirone del 1966, all'epoca dei fatti affiliato alla cosca di Andrangheta dei Giglio Levato Valente, ed ucciso a Strongoli nel Crotonese il 29 gennaio del 2020. Gli inquirenti sono partiti dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, uno dei quali è ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio Caltagirone, che sarebbe immaturato nel contesto di una lotta interna allo stesso CLAM, il cui controllo si estendeva dal comune di Strongoli alle frazioni nord di Crotone. Dichiarazioni che avrebbero confermato quanto emerso dall'ascolto di alcune intercettazioni telefoniche effettuate durante le indagini eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo pitagorico. Gli arrestati, ai quali si contesta l'omicidio aggravato dalla premeditazione e l'adozione del metodo mafioso, sono stati rintracciati, uno a Strongoli, un altro invece era già detenuto a Nuoro per altri reati e il terzo è stato rintracciato in Germania grazie alla proficua collaborazione con la polizia tedesca e al servizio della cooperazione internazionale di polizia.